900 milioni, ecco a quanto ammonta secondo le prime stime la perdita causata dalla chiusura prolungata degli impianti sciistici per la montagna Veneta. Il dato, estrapolato da uno studio di demoscopica e ripreso dall'assessore regionale al turismo Federico Caner, racconta molto delle difficoltà del turismo invernale anche e soprattutto nel bellunese. Prima di tutto, precisa Caner, sarà necessario fare una stima il più possibile precisa e puntuale dei danni e delle perdite subite per interloquire con il governo e chiedere nelle sedi appropriate rimborsi e ristori. Intanto cala ancora il numero dei ricoveri nel territorio degli Usdolomiti, in tutto meno di 80 persone tra area non critica, terapie intensive e ospedali di comunità, a fronte di poco più di 500 pazienti attualmente positivi. Nel frattempo la campagna vaccinale prosegue con le prime date fissate, tra domenica e martedì la protezione per i lavoratori della scuola. Poi, il 27 e 28 febbraio, toccherà gli anziani nati nel 1941 con possibilità di recupero per chi non ci può spostare in quei giorni. Lunedì 15 marzo a Tadicadore, il giorno successivo nel piazzale Tamonic di Agordo e il 17 nell'area della Peschiera a Feltre. Negli stessi giorni anche i nati nel 1940 saranno chiamati a presentarsi per la vaccinazione. Tra il 14 e il 16 marzo toccherà l'oro.